allora bambini oggi è un anno che è stata inaugurata la biblioteca di via piostantino sarebbe bello a me piacerebbe chiamarla sommergibile mi piacerebbe chiamarla sommergibile perché abbiamo anche biblioteche qui in municipio una si chiama la prodo un'altra si chiama mopedic e un'altra si chiama arcipella sarebbe bello fare un viaggio in mongolfiara come ho fatto fino adesso con i bambini però mi piacerebbe farlo col sommergibile sott'acqua come facciamo oggi oggi facciamo finta di stare in un sommergibile e andiamo ad esplorare questo mare di via costantino allora qui dovrebbe venire la biblioteca dei piccoli un anno fa così mi ha detto il mago superotto ciaccherotto adesso andiamo vi faccio vedere quello che c'è invece a quest'altra biblioteca ma se sapete leggere dovreste aiutare a leggere quello che c'è